ragazzi buongiorno e allora è un po che non ci vediamo vi spiego un po il perché a da metà luglio che ho avuto un bel problema nella mia parchetta si è mollato lo specchio di poppa il legno di dentro era tutto fracido e quindi niente stava per partire meglio fermarsi in questi casi tanto il mare rimane sempre buono dopodiché che rimaste essendo un brutto periodo fino a luglio e agosto c'erano le ferie a fine agosto è andata in cantiere mi hanno rifatto in dieci giorni lo specchio di poppa ora ve lo faccio vedere ho dovuto rifare tutto lo specchio la barca è stata tagliata e ricostruita ricostruita scusate tutta di sana pianta siamo tornati a mare la settimana scorsa venerdì mi hanno consegnato la barca sono uscito con due ragazzi abbiamo preso una cuglia imperiale poi vi faccio vedere il video questo è oggi primo giorno di prova da solo lunedì facciamo questo primo giro vediamo cosa succede io penso che mi vado a fare un paio di seppi e poi vado a fare un giro col vivo vediamo che succede ciao speriamo di vederci dopo e le forti ci sono ciao 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 sono tornato sono tornato yeah ed è arrivata la bimba piccoli bocconcini ciao un bel pesce non è come quello di ieri un bel pesce un pesce guardate che mangia e si è mangiato un calamaro gigante un bel pesce un bel pesce un bel pesce un bel pesce Grazie.